Grande emozione oggi per Crispy al Leap Show di Vicenza 2020. Ancora una volta troviamo una grande conferma dello sforzo e del grande impegno che Crispy profonda nello sviluppare i prodotti. Oggi si compie il coronamento di due anni di lavoro. Abbiamo iniziato infatti due anni fa la collaborazione con delle cacciatrici professioniste e delle grandi appassionate del settore per sviluppare un prodotto esclusivamente pensato per la donna che rinunciasse a qualsiasi tipo di compromesso e che fosse in grado di offrire il meglio per questo per questo tipo di utilizzatori che per l'appunto ha delle esigenze specifiche molto particolari. Il piede della donna ha una pianta più bassa, un colore del piede più basso, un piede più affusolato, delle caviglie più sottili. Quindi serviva un volume della scarpa dedicato per garantire un ottimo un ottimo avvolgimento del piede in ogni condizione di utilizzo. Anche i materiali all'interno della calzatura quindi a contatto con il piede sono particolarmente caldi, offrono una sensibilità e un comfort e un tatto specifico che è stato molto apprezzato dalle professioniste che ci hanno aiutato a sviluppare questo prodotto. E anche l'aspetto cromatico abbiamo dedicato un'attenzione particolare in base alle nostre ricerche commerciali, le nostre ricerche di tendenze in tutto il mondo abbiamo verificato che il magenta è uno dei colori molto apprezzato e in tendenza per l'appunto e abbiamo voluto riservare questo colore alle donne. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno voluto sostenere e che hanno gradito la nostra proposta e vi invitiamo tutti quanti a seguirci sui social dove potrete verificare presso quali punti vendita specializzati e presso quali orange point potrete provare e testare questa scarpa nonché acquistarla. Grazie ancora e buon divertimento a tutti.